Aggiungere pochi minuti di esercizio alla routine quotidiana, come salire le scale o andare in bici o fare una corsa per brevi distanze, potrebbe contribuire a ridurre la pressione sanguigna. I miglioramenti si vedono con soli 5 minuti aggiuntivi di attività al giorno, secondo un nuovo studio dei ricercatori della UCL e della Università di Sydney. Lo studio ha coinvolto 14.761 volontari che indossavano dispositivi di monitoraggio dell'attività fisica come smartwatch. L'ipertensione, che indica livelli di pressione sanguigna costantemente elevati, colpisce 1,28 miliardi di adulti ed è una delle principali cause di morte prematura a livello globale. Può portare a ictus, infarto, insufficienza cardiaca, danni renali e molti altri problemi di salute ed è spesso descritta come un killer silenzioso a causa della mancanza di sintomi evidenti. I ricercatori hanno suddiviso l'attività giornaliera in sei comportamenti, sonno, comportamento sedentario, camminata lenta, camminata veloce, stare in piedi ed esercizio più intenso. Hanno scoperto che sostituire un comportamento meno attivo con 5 minuti di esercizio può ridurre la pressione sistolica di 0,68 mm di mercurio e la pressione diastolica di 0,54 mm di mercurio. A livello di popolazione, una riduzione di 2 mm di mercurio della pressione sistolica e di 1 mm di mercurio della pressione diastolica equivale a una riduzione di circa il 10% del rischio di malattie cardiovascolari. Questi miglioramenti, clinicamente significativi, possono essere ottenuti solo con 20 minuti di esercizio aggiuntivo al giorno per la massima e 10 minuti per la minima.